di dati aperti e dettagliati sulle singole strutture proprio per evitare quella caccia al tesoro per capire dove sono quelli che fanno i certificati tra l'altro tutti dovrebbero fare certificati quali sono i numeri dei medici obiettori degli operatori sanitari obiettori di coscienza ma anche tutti gli altri criteri che la relazione ministeriale ci dà un po il ritardo perché l'ultima è stata pubblicata a metà giugno quindi pochi giorni fa ma con i dati ufficiali del 2020 ecco questi dati sono dati è la media nazionale ma 2020 quindi credo che sia abbastanza facile per tutti capire che se non abbiamo dei dati aggiornati quindi cosa succede oggi in una singola struttura che sia un consultorio che sia un ospedale è un po difficile davvero sapere che cosa succede e quindi ovviamente è un po difficile davvero avere sia la conoscenza rispetto alla garanzia di un servizio sia per quanto e soprattutto aggiungo sia per quanto riguarda una donna che deve usufruire di quel servizio e quindi che non dovrebbe andare alla cieca al buio ma dovrebbe avere delle informazioni preliminari chiare aggiornate e sulle singole strutture non ci servono i dati sulla regione sulla media regionale perché appunto non andiamo ad abortire nella regione Lazio nella regione Lombardia andiamo a chiedere delle informazioni andiamo a chiedere un servizio in una singola struttura quindi dobbiamo avere delle informazioni lì a proposito del servizio che abbiamo